16 europarlamentari italiani hanno scritto al commissario europeo per i trasporti Sim Callas per chiedere l'introduzione sulle auto di un dispositivo di allarme che possa salvare la vita ai bambini dimenticati dai genitori. Una lettera sollecitazione che arriva dopo la recente tragedia del piccolo Luca di due anni, morto asfissiato il 4 giù a Piacenza dopo essere stato lasciato dal padre per otto ore nell'auto parcheggiata al sole. E proprio per la legge di Luca il papà dello sfortunato bimbo si sta battendo sin dal giorno dopo la tragedia. Esistono tecnologie brevettate, ha spiegato Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Trasporti, per seggiolini intelligenti dotati di un allarme sonoro che segnala il permanere di un peso sul seggiolino quando si spegne il motore o si chiude l'auto.